La prima cittadina di Battipaglia, Cecilia Francese, ed il collega ebolitano Massimo Cariello, dopo le sollecitazioni per controlli e verifiche inerenti ai miasmi notturni, ma anche scaramucce e traduenti per la colpa dei cattivi odori, hanno chiarito le loro posizioni ed hanno assicurato massimo collaborazione ed attenzione sulla questione. Impegno concreto per entrambi i comuni per mettere fine a questi olezi che stanno creando non pochi disagi ad entrambi i cittadini delle due comunità della Piana del Sele. La situazione è che insieme stiamo cercando di verificare un po' da dove provengono, abbiamo avviato noi per quanto ci riguarda le nostre indagini, so che Battipaglia sta facendo attrettanto, quindi tengo fede all'appello che ho lanciato a Cecilia l'altro ieri, che appunto è quello di fare un percorso comune per verificare e attenzionare i territori, così come so che entrambi stiamo facendo, sia per quanto riguarda i scarichi dei refri, in questo caso in modo particolare il problema dei miasmi. Sindaca francese, quindi il sindaco di Ebboli lancia questo appello, più controlli e più sinergia fra i due comuni? Sicuramente l'avevamo detto anche noi, anche nell'ultima affermazione. Di fatto quello che si diceva prima è che il nostro territorio è un po' circondato da queste strutture. Battipaglia penso che abbiamo appunto Stir e altri almeno tre operatori privati, vicino, ormai Ebboli-Battipaglia è tutt'uno nella zona industriale, vicino c'è il loro sito di compostaggio, proprio a pochi passi dallo Stir. È chiaro che voglio dire, quando tu vai a fare dei controlli spesso trovi tutto in regola, le porte chiuse, probabilmente è quello che si pensi e che a un certo momento qualcuno apra le porte e quindi anche perché se non cambi filtri, se non tieni bene la manutenzione, poi fa caldo, allora c'è questa difficoltà di vivere in questo ambiente, tu ti immagini tutto l'umido. Poi in estate si triplicano perché fai conto che riceviamo, non so se voi anche penso di sì, riceviamo più umido perché ci vengono dai paesi dimitrofi come che si raccolge e si raccoglie e arrivano a questi siti e quindi poi col caldo che fa c'è una maggiore putrefazione, quindi maggiore quantità. Allora probabilmente noi abbiamo chiesto sia all'ARPAX, anche in OA, insomma stanno indagando, quello che bisogna verificare esattamente la quantità di umido trattata dai diversi siti se effettivamente è conforme rispetto alle quantità consentite, perché probabilmente spesso trattano più quantità e c'è questo fatto delle aperture delle porte, l'altro giorno ne abbiamo trovato una con la porta aperta, ma insomma quindi il controllo massima, vigilanza, anche loro lo stanno facendo, certo la notte non è facile, ci muoviamo anche di notte, però massima attenzione sul territorio. Sindaco Carillo, a parte il punto dei controlli, nel tecnico cosa si può fare per ovviare a questi odori sgraditi? Nel tecnico è quello che diceva Cecilia, quello di verificare innanzitutto quello che entra, io ho già avuto una relazione descrittiva di ogni singolo comune che per esempio fornisce il nostro impianto di compostaggio, so che stanno facendo attrettanto anche loro, per verificare anche la qualità del compost e appunto come viene trattato nello specifico e poi i controlli specie in modo particolare di notte, anche su questo ci stiamo attrezzando affinché davvero possiamo tenere sotto sorveglianza tutto ciò che accade nel nostro territorio. Quindi sindaca francese diciamo la collaborazione c'è con il comune di Eboli, adesso bisogna solamente cercare di eliminare questi odori. Certo, al di là è colpa di Eboli, colpa di Battivaglia perché poi quello che dicevo prima a lui, il problema è che i titoli non li facciamo noi, tu comunichi quello che stai stai osservando e stai controllando, quindi questo è il discorso pure del liceo, no? Eboli e Battivaglia, la stessa situazione. Ognuno dà il proprio territorio però nell'ambito di una sinergia istituzionale che c'è sempre stata tra me e Cecilia, questo lo possiamo garantire a tutti quanti. Infatti non al caso oggi stiamo parlando qui della mozzarella di Bufala, insomma che è una cosa che ci compete, noi abbiamo sempre detto che bisogna parlare in termini di vasta l'area della Piana del Sele, quindi forse un domani sarà tutta una città, sarà tutta un'area industriale, sarà tutt'uno della fascia costiera, insomma di fatto già è così, penso anche da un punto di vista, voglio dire, normativo e quindi se non c'è collaborazione è chiaro che ci si ferma sui propri punti, quindi di conoscere i propri limiti, se ci sono insomma delle cose da aggiustare e collaborare perché i problemi vengono risolti. Quindi possiamo dire ai cittadini che c'è massimo impegno e che questo problema verrà risolto? Verrà risolto sperando che gli organi competenti, che non siamo noi quelli che devono controllare in tutto e per tutto, quindi facciano il loro dovere, il loro lavoro. Noi lo stiamo facendo e lo andremo ancora di più a intensificare. Stessa domanda, Sindaco? No, perché spesso quando li chiami non sono disponibili a venire perché tu li dovresti avere al momento, ora dobbiamo incontrare mercoledì mattina, c'è un incontro alla regione Campania con i responsabili dell'ARPAC, fare un protocollo di intesa, insomma un contratto di vigilanza, l'ARPAC deve controllare un po' tutta la regione, non è facile controllare il territorio, per cui quando li chiami, come diceva lui, non è che sono sempre disponibili, allora di vedere un attimino come si può avviare a questa situazione. Grazie.